Sera, salve! No, ma dice che io sono polemico, ho preso il treno, mi piace la pubblicità che dice viaggiate con noi, che è più comodo. Mi sa, questo non ha mai preso il treno per dire una cosa del genere. Tanto ho scoperto una bella cosa perché si chiama FS, forse si arriva, è proprio il termine giusto. Penso che dovevo prendere una coincidenza, ho scoperto pure perché si chiama coincidenza. Quando arrivi alla stazione e trovi l'altro treno è proprio una coincidenza perché non lo trovi. In più ho scoperto ancora un'altra cosa, dice sei polemico. Lo sapete perché si chiama, cioè stazione Termini, viene proprio dal nome Termini perché Termini proprio ha la pazienza, ti viene proprio meno. A parte la cacciara che, vabbè, tu entri, a parte dovrei dare un consiglio. Se dovete viaggiare, portatevi tutti i trolle, i rotelle, non fate il discorso, togli i cabbors, la valigia, la sacca, innanzitutto perché poi vi serve il carrello. I carrelli non si trovano e poi se disgraziatamente li trovate sono tutti che ha la convergenza, vanno tutti da qua, sembrano tutti ubriachi alla stazione, tutti a Arbinario 1 perché dai come c'è io da là, ho visto già te. Dai Arfio che parte il treno, arrivo! Ecchi me, fa una cosa, tu avviate io più al prossimo. Dopo una settimana, come è andato il viaggio? Ma l'ha mandata una carta, poi c'è un'ignoranza che molti non sanno che questi carrelli per farli camminare bisogna fare un gesto semplice. Quale? Schiacciare i freni. Io ho visto famigliare che non vuole sapere un 5-6 spingere il carrello. Ma che c'ha messo il piombo lì? Poi ecco, riprendiamo il discorso della comodità attuale alla stazione Termini, c'è un via vado e c'è, camminci permesso, permesso, che sta con tutti i baggi, permesso, arriva quello che mi danno, non ti dò niente, permesso, permesso, permesso. C'è il bietto, eccolo qua, testimonianza, c'è scritto tutto, eh? Il finestrino, il posto, il vagone, la classe, l'orario, tra prenti si può essere, non c'è spera, comunque, che cosa manca? Il binario. Tu lo devi andare a cercare sul tabellone luminoso, sembra l'estrazione del supernale, tutta la gente che sta lì, va dove uno, va dove due. C'è tutto, se muove un coso, tutti che corrono, tu corri a pezzare la gente, andiamo, siamo ora, andiamo pure noi, che tu, andiamo, dai, sbrigati. E ragazzi, no, chi se ne frega, lo rifamo, perdemmo il treno, dai, sbrigati. No, no, passiamo. Arrivi al binario 32, dopo tutta sta fatica, il treno non c'è, e te parte qua la voce, il treno che partiva dal binario 32, partirà dal binario 4. Non sappia ancora, richiappate tutta la ripermessa, che metanero, ti ho dato prima, permesso, permesso. Arriva al binario 4, e il treno non c'è. Il treno che partiva dal binario 4, partirà dal binario 27. Ma dove stanno a mettere sto treno? Ma che è, è un brager macchinista o gli fanno gli scherzi, amici? Se capisci, fatti, stanno andando alla stazione, so che biavate gente. E' vero, sempre quei 4-5, tutto il tempo, cercando, gli hanno messo il treno. Non so, polemico. E' la verità, tanto è vero che, smentisco pure un fatto, dice che è maleducazione il fatto di mettere i piedi sul sedile che hai vuoto davanti. Non è maleducazione, è proprio istintivo. Non è maleducazione. Dopo che ha camminato per due ore, come te siedi, te partono da soli i piedi che è molle, si mettono là, e in quel caso se bebecca il controllore, lui che strappa i biglietti, è sempre lì con quel fare che ti dice, senta, cioè notto, lei a caso so metti i piedi sul divano? Cioè, perché lei a caso so strappa i biglietti? Che discorso! Poi dice che uno è polemico, vabbè, vai, io me ne vado. Alessandro Serra!